Intanto voglio ringraziare il nostro presidente Udc provinciale Marcello Mei con il quale abbiamo concordato un incontro che abbiamo fatto a Cagli venerdì scorso insieme al coordinamento Udc di Cagli per accendere e puntare i riflettori su una strada importante e strategica per il nostro territorio provinciale che è la Fano Roma e che è una strada ultimamente molto penalizzata da continui lavori di manutenzione soprattutto nel tratto della Contessa una galleria che è qualche anno che è all'attenzione della ristrutturazione e che mette in ginocchio in un certo senso il turismo soprattutto adesso nell'avvicinarci dell'estate del mare ma non solo il turismo di tutta la provincia il turismo storico, culturale, dei borghi mette in difficoltà il mondo anche dell'azienda, del commercio, delle industrie perché è una strada importantissima a questo incontro ci siamo voluti confrontare hanno partecipato in maniera importante e presente le associazioni di categoria qui che ringrazio dalla Conf Commercio alla CNA alla Conf Alberghi e alla Comunità Montana c'era anche il presidente della Comunità Montana presenti alcuni sindaci della provincia e il consigliere regionale in presenza della regione Giacomo Rossi abbiamo avuto un confronto importante e tutti insieme concordiamo che questo percorso, questa strada strategica debba essere sicuramente nel tempo e nel futuro rivista con un nuovo progetto addirittura sappiamo che ce n'è stato uno della regione Umbria che è rimasto poi fermo nei cassetti ma è molto molto importante perché questa è una rete viaria che va rivista in tutto anche perché sappiamo benissimo che ulteriormente se noi non rivediamo questa strada veniamo ancora di più penalizzati dalla strada che è stata da poco aperta e costruita che è la Perugia-Ancona quindi chiaramente con difficoltà come queste anche perché la Contessa presto verrà chiusa per i lavori per un determinato tempo, credo 7-8 mesi e chiaramente il turismo si dirige diciamo verso Senigallia e verso il sud delle Marche